Ecco i risultati della non aggiornata del campionato di ballavolo serie B2 uomini Andrea Pomigliano 3 a 0 Lucorotondo Tricase 3 a 1 Appoggia Iposea Udas Batte Volley Capitano Appoggia 3 a 0 Ottaviano Assembari 3 a 0 Marigliano Pozzuoli 3 a 0 Italiano Gioia del Colle Bari 3 a 1 La classifica Ottaviano in testa con 27 punti Iposea Udas e Marigliano a quota 22 Folgore Napoli a quota 14 E Lucorotondo a quota 12